Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video completamente diverso dal solito. Super tranquillo, senza nessuna analisi, commento, retrospettiva, monografia, ma comunque un video che andava fatto. Dentro questa busta c'è tutto quello che ho preso a Lucca, una serie di manga per cui ho dovuto vendere un polmone. Ma prima di farvi vedere con cosa ho barattato i miei organi, un paio di parole sulla fiera. Sono stato il 30 e il 31 e almeno per me è stato un ottimo Lucca Comics & Games. Mi sono davvero divertito, ho visto un sacco di cose interessanti, un sacco di persone, cosplayer al limite dell'immaginabile. I momenti migliori sono stati sicuramente l'aver incontrato Bruno Bucciarati, Bruno, e l'aver risvegliato la notte tra il 30 e il 31 il mio personale cercoterio. Allucinante, cosa non fa la Toscana? E ovviamente ho trovato un sacco di roba interessante. Ora, come pronosticabile, mi sto ancora mangiando le mani per quello che non ho comprato. Non ci pensare, non ci pensare. Ma ho fatto anche delle scelte sensate, di cose interessanti ne ho viste e ne ho prese e voglio farvele vedere. Soprattutto perché alcune saranno protagoniste di video che stanno per uscire, altre invece sono delle prime uscite che ho già avuto modo di leggere e sulle quali vorrei darvi un paio di pareri. Bene, iniziamo subito con gli acquisti più tranquilli. Ho dovuto recuperare assolutamente i numeri mancanti di Tokyo Revengers. Sto parlando del 7 e dell'8. Bellissima la cover dell'8, eh? Con un clamoroso kazutore in copertina. Un fan fact, anche io da ragazzino portavo i capelli con i colpi di sole. Ora verso in condizioni critiche. Piccolo inciso, la prossima settimana tornerà Tokyo Revengers sul canale con un video molto particolare. Rivolto esclusivamente a chi ha già recuperato tutti i numeri del manga, sarà una discussione sul modo in cui la narrazione sta procedendo, sui nuovi personaggi introdotti e su ciò che ci potremo aspettare in futuro. Ovviamente io personalmente sto continuando ad amarlo, non mi sta deludendo neanche un po'. Quello che dissi nel video di presentazione dell'opera, che ormai ho pubblicato quasi un anno fa, penso. Ve lo lascio linkato qui se non aveste ancora iniziato Tokyo Revengers. Continua a confermarsi per me. Stiamo indubbiamente parlando dello shonen rivelazione degli ultimi tempi. E sono davvero contento che molti di voi la pensino così e infatti sta avendo un successo clamoroso. Ma avremo modo di parlarne meglio, adesso andiamo avanti. Ok, seconda pescata. Numero 99 di Nupiez. Che come il 98 è uscito in un bundle più ampio. Questa è la parte di poster relativa a questa uscita. C'è un ordine... Oh, questa volta con su raffigurati Jimbe, un bellissimo Brook, Rufy come sempre aperto come una cozza, parte di tette di Nico Robin e Antonella Clerici. Ora so di non aver mai parlato di One Piece né qui sul canale né sulle pagine social, ma sto preparando qualcosa di davvero davvero particolare a tema. Non vedo l'ora di farvela vedere. Oggi però parliamo semplicemente della nuova edizione, che è un'edizione molto semplice ma davvero interessante. In ugual modo per la 98, Star Comics decide di riproporre questa fantastica copertina trasparente. Guardate che bella. Che si sposa benissimo con l'artwork scelto per la cover, o meglio gli artwork perché sono tutti i primi piani di personaggi. Molto molto interessante poi il fatto che all'interno si trovi una lettera dello stesso Oda. Eccola qui. Questa l'ha scritta a me, personalmente. Sì, dice per favore fai un video su Tokyo Ghoul. No. Ok? A parte le stronzate. Visto anche il prezzo è stata un'ottima coppia di uscite, questa del 98 e del 99. Bene, questi due erano gli acquisti, quelli diciamo d'obbligo, che dovevo fare per completismo. Andiamo adesso alle cose più belle e più particolari. E partiamo subito con un volume unico. Eccolo qua. Un volume unico curato da edizioni Star Comics che ho già avuto modo di leggere. One Room Angel di Harada. Ora, personalmente io non mi sono mai avvicinato all'autore. La sua produzione si compone tendenzialmente di un tipo di manga che non è il mio classico tipo di lettura. Eppure mi aveva incuriosito tra gli annunci Star Comics sia questo artwork molto interessante, e in generale è un bel volume, sia la breve sinossi che potete trovare qui sul retro. Cosa ci vuole raccontare Harada in questo One Room Angel? Cocchi è un uomo sulla Trentina che vive in un piccolo appartamento e che lavora part-time presso un combini. La sua non è una vita pagante, anzi, ha un passato burrascoso che lo ha portato ad un'esistenza quasi vuota. Se non fosse che una notte viene accoltellato da dei clienti, dei teppisti che lo stavano provocando. Cocchi sembra spacciato, ma mentre sta per lasciare questo mondo, gli appare in visione un angelo. L'uomo si desta e sopravvissuto, ma quello che lo aspetta ha dell'incredibile. Una volta dimesso dall'ospedale, torna a casa e qui trova quello stesso angelo, questa volta in carne e ossa. Non vado oltre per ragioni di spoiler, ma sappiate che il manga, peraltro in volume unico, non solo esplorerà i motivi della comparsa dell'angelo, ma cercherà anche di raccontare la sua storia, isaurendosi in una sorta di slice of life, passatemi il termine, dai toni profondamente fantastici. Una piccola perla, uno di quegli acquisti fatti così su due piedi, dai quali non ci si aspetta nulla, e che si rivelano in realtà delle bellissime letture. Ve lo consiglio davvero, penso di averlo letto in 20 minuti forse. Scorre con una fluidità impressionante. Ma andiamo avanti perché qui c'è ancora tanta roba da vedere. E passiamo subito a un pezzo da 90, un'uscita che come molti di voi stavo aspettando dal momento dell'annuncio. Torna in una nuova edizione, la Wide Edition, uno dei classici del panorama shonen a cavallo tra gli anni 90 e 2000. Il leggendario Inuyasha, figlio della penna di Rumiko Takashi, un'autrice che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Maison Ikoku, la Muramma tra le altre. Ora, non è questa la sede per parlare di Inuyasha, quindi come per One Piece vi chiedo di aspettare il video. In entrambi i casi parliamo di progetti che supereranno i 40 minuti. Aiuto. Concentriamoci sull'edizione. Questa Wide Edition non mi dispiace per niente. Diciamo che è una sorta di ibrido perché è un'edizione che possiamo considerare di lusso, ma è priva di sovracoperta, come molte altre uscite Star Comics, e soprattutto ha un prezzo tutto sommato contenuto, 9 euro. Certo, nonostante raccolga molti più capitoli di un ordinario tankobon, in questo ad esempio ce ne sono 17. Bisogna comunque tener conto del fatto che sarà un'uscita in 30 volumi. Ponderate quindi bene l'acquisto, ma se voleste recuperarlo questa è la migliore se non l'unica occasione. E io in tutta sincerità ve lo consiglio. Inuyasha racconta una storia particolare, non è esente da difetti, ma è sicuramente uno degli shonen più avvincenti che ho avuto la fortuna di leggere. E che utilizza degli espedienti legati alla mitologia giapponese davvero interessanti, che lo rendono anche solo a livello estetico e di character design uno dei prodotti mainstream più riconoscibili del tempo. Esteticamente poi è un bellissimo volume. Stupendi, veramente stupendi gli inserti in oro, utilizzati per il logo, il numero, il nome dell'autrice, che si accompagnano a questi magnifici artwork scelti per la cover e per il retro. Come detto è un volume da 17 capitoli che in questo caso supera le 350 pagine e che fa sicuramente la sua porca figura in libreria. Uno degli acquisti che ho amato di più è in generale una delle serie che aspettavo più impazientemente. E finalmente è tra le nostre mani. Bene, continuiamo con due perle che forse definire tali è poco. Ma quanto cazzo pensano? Oh, eccoli qui. Allora, uno, Seventeen di Baron Yoshimoto e soprattutto due, Cannibale di Yu Haku e Kazuo Kamimura. Allora, qui ci troviamo davanti a due volumi che vi consiglio, ma che in realtà vorrei obbligarvi a comprare anche con la forza se necessario. Questo video si compone di una serie di minacce. Partiamo da Seventeen di Baron Yoshimoto. Ora stiamo sicuramente parlando di un autore particolare, sia per produzione, sia banalmente dal punto di vista biografico. Si tratta di uno dei grandi veicoli del gaekiga anni 60 e 70, la cui comparsa, come sapete, ha portato a una vera e propria rivoluzione nel modo di raccontare storie e soprattutto nei soggetti messi in scena. Al tempo stesso però parliamo anche di un autore atipico. Sì, perché la sua produzione non rimase circoscritta al Giappone. Nel 1980 si trasferì in America, dove visse per 5 anni e soprattutto dove non smise di produrre. Yoshimoto infatti si annovera come primo artista nipponico a collaborare con Marvel. Ma al di là di questo, qui ci troviamo davanti ad un volume che raccoglie in realtà una serie di storie, se non sbaglio 11, che raccontano le vite di giovani giapponesi, 17 anni negli anni 70. Le storie tra loro sono molto diverse perché diversi sono i soggetti che trattano. La particolarità è che Yoshimoto fa un quadro molto ampio di un'intera generazione. Ragazzi studenti, lavoratori, invischiate molte volte in storie più grandi di loro. Insomma, un quadro di ampio respiro che si risolve in un'opera davvero appagante, soprattutto se sia amante di questo tipo di estetica. Ovviamente, come succede sempre nelle raccolte, alcune storie risultano più interessanti di altre, ma in generale nella sua totalità è un'opera che scorre con una fluidità impressionante. Molto molto interessante l'edizione perché alla fine del volume troviamo anche cegni biografici relativi all'autore e una sua intervista. Il volume poi è curato alla perfezione, come J-pop fa sempre. Questa volta è stato scelto questo rosso azzeccatissimo su cui si stagliano dei frammenti delle tavole inerenti alle storie. Molto bella anche la citazione di Gonagai scelta per accompagnare la sovracoperta, che recita questo. Le storie di Baron Yoshimoto riflettono la nostra società senza trucchi. Con sguardo pungente e penetrante, attraverso i drammi di un gruppo di 17 anni portano alla luce il Giappone degli anni 70. Poche parole per descrivere davvero bene quello che Yoshimoto porta su carta. Molto carina poi la copertina. Vedete il suo, al di là del tempo, è un tratto un po' atipico. Diciamo vicino anche in un certo senso ad un'estetica occidentale. Bello, davvero bello. Ecco qui il retro. Insomma, 17 anni Baron Yoshimoto, primo acquisto d'obbligo. Secondo volume da recuperare assolutamente e vera perla di tutto questo video, Cannibale di Yu Haku e Kazuo Kamimura. Non mi soffermerò tanto sul manga raccolto in volume unico perché sto già scrivendo un video dedicato. Voglio giusto darvi un paio di input. Le storie e le tavole di Kazuo Kamimura sono letteralmente leggendarie e non parlo solo delle opere soliste, ma anche quelle in collaborazioni con altri mangaka o sceneggiatori, tra cui spicca ovviamente l'immortale Lady Snowblood con Kazuo Koike. Dico questo perché in realtà è di una collaborazione che stiamo parlando. In questo caso con Yu Haku, sceneggiatore, conduttore televisivo, paroliere, ma soprattutto amico di Kazuo Kamimura. Dall'alchimia tra i due artisti nacque nel 1971, Cannibale. O meglio, Hitokui. Il manga ci racconta la storia di Namiki, una giovane ragazza di provincia disposta a tutto pur di diventare la più grande star del Giappone, anche a divorare chiunque le si pari davanti come un ostacolo. Ci troviamo al cospetto di un racconto che prende delle derive forse irreali, ma che ci regala un taglio crudo del mondo dello show business dell'epoca. Una giungla senza regole, dove appunto solo un cannibale può emergere. Mi dite sempre che sono troppo buono con le opere che ho tratto, che non sono oggettivo, eccetera eccetera, e avete ragione vaffanculo, però in questo caso non posso esibermi. Questa è una roba da 9 su 10. Se siete amanti del fumetto d'autore, recuperatela perché non ve ne pentirete. Poi siete liberi di venire sotto casa mia con i forconi se non vi piace. Ovviamente noi ne parleremo meglio perché merita assolutamente un video a sé stante. Un'esperienza d'autore da non lasciarsi scappare, che si accompagna alle magnifiche tavole di un dio del manga, come Kamimura. Bene, siamo arrivati agli ultimi due acquisti che sono in realtà due opere dello stesso autore. Una è una nuova uscita, una invece è un recupero che ho dovuto fare obbligatoriamente quando l'ho visto. L'autore in questione è Hiroki Endo e penso che abbiate capito entrambe le opere. Il manga da recuperare è Eden. It's an endless world. Due e tre. Devo ti dare le palle a Riko. Tocce a teppo. Tocce a teppo, devo leggere questo. Eccolo qui, il seinen rivelazione di Hiroki Endo. In prima edizione mancano gli ultimi quattro numeri, so che sono introvabili ma mi sto già muovendo per recuperarli e forse ce l'ho fatta. Eden, che in realtà io ho già letto in scan, ma mai posseduto. Ora è inutile girarci intorno, si è realizzato tra il 1998 e il 2008. Eden è indubbiamente una delle più grandi opere cyberpunk mai scritte. Un seinen ricco di riflessioni su moltissimi temi, che parte in realtà da un presupposto tutto sommato semplice. Un pericoloso virus che trasforma la pelle e i tessuti in materiali cornei ha sterminato gran parte della popolazione mondiale. Alcuni soggetti però presentano una particolare immunità al virus. È da loro che bisognerà ripartire. E questo ha grandissime linee il presupposto da cui si svilupperà una trama in realtà ben più complessa, che toccherà spunti politici, sociali, bellici, risolvendosi in un'enorme riflessione sulla natura stessa dell'uomo. Un manga che peraltro, soprattutto esteticamente a livello di world building, fa un po' da erede spirituale al capostipide del genere. L'immortale Akira di Katsuhiro Otomo. Ora il paragone con Akira può sembrare una bestemmia, ma se aveste modo di recuperarlo, chi l'ha letto lo sa, trovereste in Eden un prodotto in tutti i suoi aspetti nel complesso davvero di altissimo livello. Sono davvero, davvero felice di averlo recuperato fisicamente. Uno perché è uno di quei manga che in un'ipotetica top 20 metterei tranquillamente. E due perché volevo averlo in libreria. Bene, bene, questa era la vera chicca del video. Come dicevo, non è l'unica storia di Hiroki Endo che ho recuperato. E qui ci spostiamo sull'ultimo acquisto. Ecco qua, le cartelline di One Piece. Via! Oh! Il primo volume di Planet of the Fools, la nuova opera del maestro nativo di Akita. So che alcuni di voi lo hanno già recuperato e ne abbiamo già parlato su Instagram, su TikTok, eccetera. Vorrei comunque spendere un paio di parole. Devo dire che quello che ho trovato leggendo il primo volume è perlomeno inaspettato. Endo fonda la sua nuova storia su un presupposto particolare. Siamo sul pianeta Slas, in un futuro imprecisato. Il pianeta è abitato sia da Slarsiani che da terrestri, presumibilmente colonizzatori. Il protagonista, il giovane Shinta, è un soggetto appartenente ad entrambi i popoli, essendo figlio di uno Slarsiano e di una terrestre. Ma è anche discriminato da entrambi. Ha rimasto orfano, in seguito ad alcuni eventi che non voglio rivelarvi. Entrerà in possesso di un regalia, un cimelio appartenuto alla sua famiglia. Ha l'apparenza un semplice coltello, con il quale però entrerà in risonanza, mutando forma e sviluppando poteri disumani, che gli saranno fondamentali per intraprendere il cammino di vendetta davanti al quale sarà messo. La particolarità del presupposto non sta tanto nella storia di Shinta, che è sicuramente molto avvincente, ma nel modo in cui veniamo catapultati in questo mondo. E dico catapultati non a caso, perché l'autore sceglie deliberatamente di riempirci di informazioni sin dalla prima pagina. Informazioni sulla natura del pianeta, sulla sua storia, la storia dei suoi popoli, l'apparato politico da cui è governato, nel mentre che a sua volta la storia di Shinta avanza ed anche ad alta velocità. Insomma, è un volume che a me, che sono appassionato del genere, è piaciuto e mi fa venire voglia di saperne sempre di più. Comprerò il volume 2 al day one, ma è anche un insieme di capitoli densi, forse troppo di informazioni, che si accompagnano a un disegno personalmente che ho trovato un po' altalenante. Premessa, è un discorso soggettivo e non è detto che ve lo dobbiate condividere, ma non sono un amante dei soggetti e del character design, diciamo così, del maestro Endo, soprattutto per quanto riguarda soggetti umani. Al contrario, gli spazi, gli ambienti, le strutture, quelle valgono sempre la lettura. E in questo primo volume, zeppo di primi piani, focus sui personaggi, non emergono troppo tutte le caratteristiche positive, ma so che non sarà così nelle prossime uscite. Peraltro, personalmente, ma penso in generale, è la prima volta che vediamo il maestro confrontarsi con un'opera a target shonen. So che questo vuol dire poco o nulla, ma delle differenze si sentono. In questo caso, ad esempio, già da questo primo volume possiamo capire che i combattimenti saranno il vero fulcro dell'opera e ovviamente sono gestiti in modo magnifico, esemplare. Insomma, in generale, Planet of the Fools ha bisogno di altri volumi per rivelarsi, per farci capire dove andrà a parare e soprattutto che tipo di opera sarà. Appena saranno disponibili le prossime uscite, le vedremo insieme e le discuteremo. Bene, detto questo, gli acquisti finiscono qui. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se ne volete altri di questo tipo, fatemelo sapere. È anche bello abbassare i toni ogni tanto. Ora, tutte le opere che vi ho fatto vedere, che sono disponibili su Amazon, le trovate linkate in descrizione. Come sempre, per voi il prezzo rimane standard, mentre una piccola percentuale arriva al canale. Vi ringrazio in anticipo e vi ringrazio per tutti gli ordini fatti attraverso gli scorsi video. Io in realtà vi avrei voluto parlare anche dei nuovi annunci, ma purtroppo non ne ho avuto tempo. Spero di riuscire a farlo la prossima settimana con un video unicamente dedicato, perché sono state annunciate veramente alcune bombe. Bene, il video finisce qui. Io come sempre vi invito a mettere mi piace, condividere, iscrivervi al canale. Non dimenticate di seguire le pagine social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.